Sabato 23 marzo il capologo siciliano si prepara ad accogliere il presidente della Cina Xi Jinping accompagnato da una folta delegazione. Molto probabilmente il leader cinese resterà in città per 24 ore e soggiornerà al Grand Hotel Villa Igea mentre le tappe previste dovrebbero essere il Teatro Massimo e Palazzo dei Normanni. Un turista d'eccezione dunque sta per arrivare a Palermo. Inoltre è molto probabile che voglia incontrare la comunità di connazionali che vivono a Palermo e che rappresentano una fetta importante dell'economia cittadina. I dettagli della visita non sono ancora definiti ma tutti i luoghi in cui transiterà il presidente cinese saranno blindati a partire dall'aeroporto e dalle strutture alberghiere che ospiteranno la delegazione. Non a caso in questi giorni alcuni rappresentanti del suo staff sono sbarcati all'aeroporto di Punta Raisi e hanno partecipato a un primo vertice operativo di sicurezza in prefettura. Xi Jinping ha scelto Palermo come seconda tappa privata di un viaggio ufficiale in Italia che partirà da Roma dove sono previsti incontri politici e diplomatici. La tappa siciliana invece dovrebbe rappresentare una giornata di vacanza per il leader cinese a ulteriore dimostrazione del livello di attrattività che la Sicilia e in particolare il suo capoluogo rivestono per il mercato cinese.